Obbligo attestazione SOA per il 2023 per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per interventi di importo superiore a 516.000 euro. Chiarimenti che sono arrivati con la conversione in legge del Decreto 11 che è stato approvato recentemente al Senato e quindi aspettiamo solo la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Chiarimenti che sono delle interpretazioni autentiche, sono stati inseriti proprio dei commi e degli articoli. Per quanto riguarda l'attestazione SOA è stato chiarito che per gli contratti l'obbligo è questo della norma che è stata pubblicata, emanata a maggio del 2022. In fase di contratto deve essere specificato, in caso l'importo sia superiore a 516.000 euro, che l'impresa ha l'attestazione SOA o la ha richiesta nel periodo transitorio che sono i primi sei mesi del 2023. Però c'era il dubbio, appunto, essendo entrato in vigore il 21 maggio, che cosa succede a quei contratti tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2022? Questo è stato chiarito, cioè per quei contratti sottoscritti tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2022, che rientrerebbero nell'obbligo SOA, il requisito dell'impresa di avere l'attestazione, di avere la richiesta, deve essere stato soddisfatto entro il primo gennaio 2023. E poi è stato chiarito che la soglia dei 516.000 euro si riferisce al singolo contratto. Quindi, se io affido un lavoro ad un'impresa e quel lavoro supera i 516.000 euro, l'impresa deve avere l'attestazione SOA. Se io affido di un intero importo del cantiere superiore a 516.000 euro, singole lavorazioni a più imprese e questi affidamenti sono inferiori ai 516.000 euro, non c'è l'obbligo di attestazione SOA. Vale il singolo contratto. Terzo chiarimento riguarda la questione dei bonus acquisti, i bonus sugli acquisti degli immobili. Lì non si applica l'attestazione SOA. Questi e altri chiarimenti sono stati inseriti nel decreto 11, te ne ho già parlato, comunque li analizzeremo poi nei prossimi video che pubblicherò sia nel canale YouTube o negli articoli nel sito. Quindi non mancare, lascia mi piace e ci vediamo al prossimo contenuto.